Tu chiamale, se vuoi, emozioni Uscir nella brughiera di mattina dove non si vede a un passo per ritrovare se stesso Parlar del più ed al meno con un pescatore per ore ed ore per non sentir che dentro qualcosa muore e ricoprir di terra una piantina verde sperando possa nascere un giorno una rosa rossa quando entrerò in quella piazza a Firenze mi tremeranno le gambe ma avrò un fiore rosso all'occhiello più grande della paura di non trovarci nessuno sarà la paura di trovarci tutti forse gli uomini di spettacolo cercano l'amore del pubblico per riparare le ferite di una infanzia difficile ma io non so niente dell'infanzia di Beppe Grillo e ho sempre pensato che quando ha lasciato i teatri per riempire le piazze lo ha fatto con uno slancio di grande generosità la politica allora era come pietrificata e Grillo mi sembrava proprio uno tsunami necessario per spingere la politica a cambiare poi il movimento è diventato un partito Grillo è diventato un leader politico e sono venuti avanti i due Mattei che mi sembrano anch'essi alla ricerca di un amore universale del pubblico e mi sembrano piuttosto simili ad attori oppure a conduttori televisivi che a leader politici veri e propri sono presenti in ogni Tg sono presenti in ogni programma di informazione c'è posta per noi ad ogni ora del giorno e della notte Renzi allacciatevi le cinture stiamo decollando Salvini allacciatevi le cinture stiamo precipitando e quando lo trovano questi il tempo per studiare le soluzioni ai problemi visto che sono sempre in televisione di fronte a questo spettacolo di felpe, tute mimetiche, videogiochi non solo io penso che non ridiscano dall'aldilà De Gasperi, Togliatti, Nenni, Berlinguer ma inorridiscono pure Giulio Andreotti, Graxi, Cossiga la maggioranza gli italiani invece se ne frega cambia canale e purtroppo lascia in piedi una domanda la vostra che cos'è? una protesta oppure una fuga? perché nel frattempo Matteo Salvini con la sola accortezza di cambiare qualche felpa ogni tanto parla il lunedì a porta a porta e un pochino a piazza pulita il martedì contemporaneamente a Ballarò e da Frolis e in tutti gli speciali del dopo elezioni contemporaneamente perché non provoca un rifiuto Salvini perché dice cose che il pubblico vuole sentirsi dire e qual è il primo problema in Italia? prima erano gli extracomunitari adesso sono i Rom quindi risolviamo il problema dei Rom e l'Italia allacciate di nuovo le cinture di sicurezza con la destra tornerà unita e decollerà perfino Adriano Celentano ha trovato simpatiche queste uscite di Salvini si è indignato per quella macchina che a Roma uccide una Filippina rischia di fare una strage ed è guidata guarda caso da un Rom adesso i garantisti del giornale urlano perché è stato scarcerato il giovane che non guidava caro Celentano tu ci hai abituato a prendere delle volte le posizioni controcorrente questa volta mi sembra che cerchi un consenso facile facile so che non serve ricordarti che ogni giorno in Italia vengono straziati giovani, vecchie e intere famiglie da tir, da bassi impazziti da automobilisti ubriachi o incocainati e praticamente non succede niente anche se hanno la cittadinanza italiana e i politici tacciono indifferenti a questo problema i giornali titolano sui Rom ma sugli scandali la corruzione sulla mancata selezione della classe dirigente su mafia capitale scarsi approfondimenti anche perché se si approfondisse si scoprirebbe che i soldi si sono fatti rubando sulle spalle dei nomadi e sulle spalle degli extra comunitari naturalmente quelli che vivono accanto a un campo nomade sovraffollato e in condizioni igieniche spaventose hanno tutto il diritto di urlare e di urlare quanto gli pare ma gli altri mi piacerebbe sapere come intendono risolverlo questo problema degli zingari se con le case no perché vengono prima gli italiani se con il lavoro no perché vengono prima gli italiani se con la raccolta differenziata no perché vengono prima gli italiani se comunque a casa mia no perché quelli porterebbero il crimine nella mia vita non resta che richiudeli in grandi campi lontani dalle città condannarli ai lavori forzati o farli uscire magari solo per lavorare mettere magari i campi accanto a grandi discariche impedire i matrimoni misti tra zingari e gli altri cosiddetti normali sterilizzare i bambini per impedire che si diffonda il germe di una razza aliena guardate sono tutte cose che sono già state fatte le hanno fatte i nazisti e le hanno fatte non perché i nazisti erano cattivi ma perché pensavano che gli zingari non sanno vivere in maniera degna dunque siccome non sanno vivere in maniera degna il valore della loro vita è uguale a zero anzi se togli di mezzo uno zingaro cresce il valore della vita sociale della vita collettiva per cui c'è una sola soluzione finale distruggere completamente gli zingari ma caro Adriano a parte la storia sai e sapete voi per quale ragione gli zingari sono necessari ed è necessario difenderli perché gli zingari rappresentano il viaggio la fantasia la danza la creatività la musica che nasce spontaneamente senza spartito la favola che si tramanda di bocca in bocca senza scrittura rappresentano il rifiuto del lavoro e del denaro come costrizione dentro regole produttive rigide allora mettiamoli in galera quando delinquono gli zingari senza piedismi senza buonismi ma applicando una legge che deve essere uguale per tutti ma eliminarli no perché eliminandoli noi elimineremmo prima di tutto lo zingaro che è dentro ciascuno di noi quella sana inquietudine che ci spinge a cercare altre mete altri orizzonti altre avventure più affascinanti perciò se gli zingari vi fanno veramente schifo non venite in quella piazza a Firenze perché quella sera io zingaro sarò e in futuro lo sarò anche di più grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti